ebbene siamo ancora vivi e quest'oggi in partenza per un altro viaggetto con lui siamo ancora qui ebbene però non sugli sci attualmente siamo in zone marittime siamo portati dietro lo scooter perché andremo a fare un giro così prima andiamo a fare un giretto con amici vero? andiamo dai dunque la verità è che per il resto dell'inverno siamo andati a sciare abbiamo trovato ottime condizioni del tipo queste ma di cosa stiamo parlando no porco dio piantina di me no più a no non al maggiarda alla desi la desi è la cordina blu sì what the fuck what the fuck però le vedete negli episodi del prossimo inverno quelle lì le teniamo no? quindi ho dei video diciamo pronti tra virgolette da editare di uscite che abbiamo fatto però appunto li tengo per il prossimo inverno perché tanto non ti può restare lì a maturare no? sai come il formaggio 24 16 mesi stagionatura più lo lasci lì più diventa buono in teoria oggi il mezzo sarà questo incredibile ducati super strada mille cavalli siamo venuti già qua al mare una volta a fare il giro delle cinque terre questa volta sarà una roba del genere però andremo a vedere nuovi posti nuove cose e probabilmente a mangiare un fritto misto e così in un batter d'occhio a porto venere e ora dobbiamo cercare il pesciolino immagina se mi cade il telefono la signora mi fa portare tutto la verità è che tante cose stanno succedendo in questo periodo tra aprire una srl tra trasferirci in una casa nuova tra il van che ci ha lasciato a piedi tra virgolette e quindi questo è il motivo generale per cui non sono usciti i video mangiarbi ha mangiato vuol dire non male il posticcino trovato a caso speso il giusto alla fine e poi cosa fai non vieni a mangiarti un gelato a monterosso e quindi siamo tornati qui a casetta con mitch ci siamo visti la formula 1 che vuole bastone gigante oddio l'ha preso guardate che tramonto strano siamo in mezzo alla nuvola però di là si vede che c'è il sole e c'è la luce rossa qua comunque niente raga questa è la vita attualmente che sta occupando molto tempo e quindi c'è meno tempo per editare i video alla fine di registrare sto registrando però si ecco questo paesaggio è alquanto film horror buongiorno oggi il programma è quello di fare un girettino e poi tornare a casa a mangiarci una bella pizza andate a vedere tutti i video delle serie vecchie sul canale mentre io scancro su sta ruota amici vieni qua che c'è una macchina ad essere sincero ultimamente i social mi hanno un po' rotto le pale che non ho mai dato in realtà così tanta importanza ultimamente ancora di più sono diventato uno che sta per i cavoli soli mentre io continuo a registrare a fermare mi piace fare i video a me mi piace fermare il mio pensiero nel tempo filmare le nostre avventure però sì ecco non è che cerco chissà cosa con questa riflessione molto poetica adesso andiamo a farci un giretto in bici noi ci vediamo la prossima avventura qui ci vediamo la prossima avventura